Ha riaperto i battenti per una nuova stagione, Italia in miniatura, uno dei parchi tematici più originali del nostro paese. Nato nel 1970 grazie a un'intuizione di Ivo Rambaldi, grande appassionato di viaggi, storia e arte, il parco mostra in una visione tridimensionale 272 fedeli riproduzioni in scala dei più bei monumenti e gioielli architettonici italiani. Con la riapertura sono tornate le originali ed esclusive attrazioni, dalla scuola guida per ragazzi al canal grande navigabile di Venezia, passando per la monorotaia che attraversa gli 85.000 metri quadri a disposizione dei visitatori. Ma da quest'anno c'è una novità, le miniature che costituiscono il cuore del parco sono ancora più vivaci e sorprendentemente reali. Un restyling completo coinvolge 36 piazze italiane, che si popolano di migliaia di nuovi Omini, anzi di nuovi Umini, ovvero repliche in scala di persone vere, fra le quali VIP e visitatori del parco riprodotti in miniatura. Cavia è testimonial della nuova attrazione il noto DJ Linus, che ha consentito a farsi rimpicciolire per l'operazione Umini. L'attrazione occupa una nuova area, uno spazio ampio e attrezzato, dove farsi riprodurre in miniatura grazie a un avveneristico sistema esclusivo che dapprima scannerizza in 12 secondi la persona, poi ne ricostruisce l'immagine in forma solida, comprimendo strato dopo strato polvere di alluminio e nylon. Una volta terminata la statuetta in scala 1 a 33 con fattezze, colori, abbigliamento della persona vera, il visitatore avrà a disposizione due Umini e potrà decidere di piazzarne uno all'interno del parco, diventando così cittadino di Italia in miniatura.